In viaggio dall'Austria alla Toscana, incuranti della pandemia in corso e delle normative che regolano l'accesso in Italia. Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia Stradale di Udine, a Rivoli d'Osoppo, durante i controlli sul rispetto delle normative Covid, ha fermato una Ford grigia targata Austria. Ad attirare l'attenzione degli agenti, un faro non funzionante. A bordo una famiglia austriaca composta da due giovani e una bambina molto piccola che viaggiavano scalzi e senza mascherine in un veicolo pieno di pentole, posate, vestiti e coperte, oltre a diversi bongos, tamburi e etnici utilizzati dagli artisti di strada. I giovani viaggiavano senza mascherine di protezione, patente e documenti del veicolo, dichiarando ai poliziotti di essere all'oscuro di quanto stesse accadendo, poiché privi di televisione e di non leggere d'abitudine i giornali. Verificata la mancanza di documenti al seguito, anche se la patente è il risultato esistente tramite verifica delle banche dati di polizia, gli agenti hanno multato i genitori per la mancanza della documentazione, attestante l'effettuazione del tampone, almeno 48 ore prima dell'ingresso in Italia, per il mancato uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre a quelle per il mancato possesso della patente di guida e per le anomalie del veicolo. Gli stranieri sono stati intimati a non proseguire il viaggio verso la Toscana e a fare subito rientro nel paese d'origine.